L'onorevole Vinciullo oggi a Lentini per inaugurare il nuovo circolo del centrodestra. E si inaugura la sede del nuovo centrodestra a Lentini ma questa mattina insieme agli amici di Lentini ci sono anche quelle di Carlentini e di Francofonte perché questa è una realtà importante della provincia di Siracusa e di conseguenza non può operare e agire in maniera solitaria ma deve agire e operare di concerto con le altre due realtà importanti. Anche perché vedete a nessuno sfugge che di qui a qualche mese il territorio potrebbe essere chiamato a decidere se aderire al libero consorzio di Siracusa oppure se dare vita ad altre scelte. E per fare queste scelte è chiaro che Lentini, Carlentini e Francofonte non possono operare separatamente ma devono operare insieme. Ecco, le europee sono alle porte, primo con l'auto. Ma le europee sono alle porte, però vedete i partiti non nascono perché ci sono le elezioni europee o perché ci sono le elezioni nazionali o perché ci sono le elezioni regionali. Quello è un collaudo, ma come tutti i collaudi lasciano il tempo che trovano. Noi saremo impegnati, siamo impegnati in maniera seria, in maniera coerente con quella che è nella nostra storia in questa battaglia per le europee, però non è un partito che nasce finalizzato al risultato europeo. Nasce perché è un partito finalizzato a voler si spendere, a voler trovare soluzioni idonee, a risolvere i problemi drammatici che vive il nostro paese. Poi vengono anche gli europei, ma intanto prima vengono le persone che abitano in questa provincia, viene prima il territorio che dobbiamo tutelare e difendere, poi vengono gli europei perché se difendiamo e tuteliamo il territorio, se diamo risposte concrete, se siamo accanto alla gente, vengono pure i risultati. Altrimenti le elezioni potrebbero venire ogni giorno, ma i risultati concreti non arrivano mai.